Salve ragazzi, qui è Delta28 e beh, siamo sempre qui a giocare Allora, io ovviamente sto livellando un po' tutti, anche se dovrei cambiare un po' le fazioni Io vorrei anche provare a usare lui, finalmente a posto di lei Giusto perché così usiamo nuovi personaggi Eh, lui in quasi un turno, fra poco farò tutti i tank, voglio vedere che succede E bene, voglio vedere come si evolve la cosa, vediamo un po' Allora, per prima cosa abbiamo una missione, madonna Madonna, questa è pericolosa, io la vorrei fare però La vedo stra difficile Però ci conviene fare, la tentiamo raga Noi la proviamo, se tutto va bene, perché così inizia a abbassare il qua Perché il prossimo update, questo qua che fa lui Vedete quello che sta, fa lei anzi, no, no, lei No, lui servirà moltissimo, facciamo così, cerchiamo di mantenere il più possibile Eh, questo aumenterà di uno però, niente di eccezionale Questo dobbiamo aspettare sei giorni Quindi conviene abbassare questo, di due oltretutto Ci proviamo raga Ci proviamo Qua è tosta, eh, dobbiamo far fuori tutti Cioè, proprio palesemente tutti Non dobbiamo perdere tempo Vedete, è già ben equipaggiato lui, eh, pure messo bene Eh, eh sì Buono, perché abbiamo l'opportunità di fare un po' di Modi per scappare, vedete, granata Abbiamo un modo per fare altri modi Di invasione, di azioni, insomma Abbiamo molte opportunità di rompere scatole ai nemici Vediamo un po' di fare un bel gameplay, come sempre E speriamo che stavolta riusciamo a fare Perché lo scopo nostro Questo qui, con l'apovia Anarchia, come avete visto con la parte 13 Praticamente dobbiamo sconfiggere tutti E non fa scappare nessuno Quindi, mo' Dobbiamo sperare di fare una cosa decente Ok? Speriamo, eh Davvero difficile, eh Perché la missione può finire in due modi Anzi, in tre Quei nemici hanno della pericolosa merce di contrabbando Recuperatela Ah, ok Vedete, impedisce ai nemici di sfuggire Infiltrata secondaria Per nostra fortuna se può fare Ovviamente ci conviene Eh Fatemi vedere Che cosa dice Il colpo di segale è un stordimento In questo caso forse conviene lui Poi, tutte le unità che entrano Tengo di tre Mobilità C'era un turno In questo caso te E E E a rischio, bello Siamo pronti? Entriamo È ora di fare irruzione Il doppiaggio è bello Però Due tank Giustamente Ma è andata bene Poteva fare Di pieno Vediamo qua Ancora il vivo Ma è giustamente Dai Non si sa mai Togliamociolo dai Non c'è credo Almeno critico Raga è rimasto Solo uno è rimasto Non è una cosa positiva Quello lo possiamo anche sconfiggere E pure stordito Quindi andiamo al prossimo Direttamente Mancato proprio Che culo Bella Peccato che ha Lo schiavo Al retto Non devono scappare Dobbiamo già farli fuori Vediamo se con questa granata Inizia a dare fastidio Un po' a tutti Allora Sto pensando Boni Eh Allora No Perché devo capire Qual è la mossa migliore Da fare Eh no Mi tocca Beh Fuori Ma non ce credo Ma non mi puoi prendere in giro In questo modo però Dai Avevi una bella guardia O se no Altrimenti Zitto 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 Te fotto La grande Zitto Noi dobbiamo catturare Per forza Prima Lui Quindi saliamo qua sopra Perché Guardia col cavolo Guardia col cavolo Allora Ma attacca Ma attacca a tutti Ma attacca a tutti Che vuoi Copra Ovviamente Però è una mira di merda Ovviamente Solo con me È una mira Arma del nemico in vista Minchia Mancato Arma in Guardia Rimosso L'ha rimosso Però non può fare più attacchi Se non sbaglio Giusto Dimmi di sì Dimmi di sì Ti prego Che è successo Aia Immune al veleno Meno male Una cosa positiva Ora tocca Farvi il culo A tutti Inzi Da quanti danni No Non per molto Vedete com'è bello Che li stordisci Peccato che Ma no Come è pronto a scappare Pure Oh Tutti che scappano Porca In seria Mo Mo Aspè Sì Sì Aspè Fuori uno Bella Così sai di livello Bro Bravo bro Ehi bro Mo Stordisci A quell'altro Do sta Ecco Ti proprio Passi là davanti E lo sfondi Oh Effettivamente È un arresto Quindi è Ancora stordito Meno male Quindi si può Ok Consegnami la tua mente La cosa divertente È che io Terrò Questi Bellissima Ancora Ottimo No Sto guardando A chi posso Far male Guarda Tutti i cento Questi Quello è stordito Quindi non è un problema Critico Bella Bellissima Sta andando Da dio Sta partita Ancora stordito Zitti Lui è stato ferito Gravemente È quello che mi serviva Perché ovviamente Questo scappa Guarda quanta velocità Mizzica che culo Me tocca Sì perché Lo so Uno mi direbbe Ma scusa Potevi anche Lo so Ma non fa niente Fidatevi Per la situazione Per come siamo messi Mai dire mai Bella Dai È andata molto bene Mo sfondiamo a questo Per stordirlo Beh Perché tanto si doveva Riprendere Eh Mo è in guai Perché mo lui deve Trovare un modo Per scappare Vedi Critico Però Mizzica Quanto è che si è Fatto lo scudo Vedi Bellissima Mizzica Che giocata Per il momento Stiamo buoni Non si può Mamma mia Qua vediamo che vada Tutto bene Lui serve questo Serve il tank Serve ovviamente lui E ovviamente lei Allora Vediamo un po' A parte che lui è più grosso Di tutti quanti Porca miseria Cioè Bro Sei alto qui Mizzica Toppa gente Fermi Fammi vedere Un'altra situazione Madonna Toppa gente Eh La pistola Te la devo potenziare Bello Non ho un problema Qua la pistola Brutta Pure critico Vedete Madonna Ah Sta poi qua Questo Questo vuoi Quel fucile a pompa Dopo Easy Allora Vediamo Per i critici Allora faccio Madonna quanta gente Mi prende in giro E il problema Che più fai fuori Meglio hai Capito qual è il fatto Bella Eh Madonna Troppo Ok Facciamo così Andiamo E passiamoci Su di lui E poi te vai A corpo a corpo Sicuro Dai Aia Poveraccia E' stato l'unico Che Così impari Pure critico Gli altri invece Madonna Quanto gli ha tolto Allora Mo vediamo Un po' di gestire Bene la cosa Hanno settato Giustamente Già è pronta A fuga Quella Porca miseria Dov'è la porta Mizzica Ok Già siamo fortunati Che la porta Sta proprio Allora Con te Per sicurezza Ma dai Non puoi mancar Ecco perché A lui serve Il corpo a corpo Assolutamente Ma quando hanno Le voci femminili Mi mette ansia A parte che posso Far esplodere Quel cosa Porca puttana E scappa Da là Madonna Quando fanno così Non li sopporto più Quel cosa Per esplodere In pratica Ok Vorrei curare A qualcuno Vediamo se No Troppo lontano Ok Vabbè Ci ho provato Mo il problema È quello Percentuale Troppo basso Lo sapevo Però Era da provare Il trucco È semplice Dobbiamo Stordire A tutti Questi Meno male Meno male Mo dovrebbe starci L'esplosione È andata Discretamente bene È andata Discretamente bene Ma almeno due Mo mi è colpito Risonante Questi molti scappano Già mi è scappato uno E non doveva scappare Oh Sono concentrato su di me Però Allora Allora Per prima cosa Mi curo Non vieni a curare No Dovevo curarmi io Che c'entra lui No Madonna Sei vabbè Sì vabbè Un po' più astronzata Però Ho sbagliato Pensavo che me la portava In automatico Cioè In senso La scelta era quasi ovvia Invece Non me l'ha fatta Ovvia Devo stordirlo a quello Se lo stordisco È a posto Dai Scudo contro scudo Ci speravo Beh effettivamente anch'io Oddio Era ancora vivo Quello Non l'avevo visto Ne sono scappati due Aia Dai Mo non vale però Mo mi sta andando male Ho parlato troppo presto Comunque Eh Aspettate Eh Guardi col capo E lo so Aspetta Mo sta Sta cosa Da un problema Sparisci Te Eppure Ovvio che scappo tutti Però dai Non è giusto Non va bene Sta cosa Mi sono scappati troppi Ragazzi Troppi mi sono scappati Non va bene Sono scappati troppi Mi sono tolto il cobra Però eh Che il cobra È pericoloso Però molti Stanno veramente A rischio Come posso dire Molti posso Sconfiggere tutti In maniera più facile Però Devo sconfiggere tutti eh Non devo far scappare Manco più uno Allora Che cazzo è Quel coso verde lì Ok Facciamo fuori prima A uno A quello Ed è uno Dai Almeno ho fatto tre Dai Ottimo Perché ti sei sposta Così tanto Lontano Minchia Non l'avevo visto A quello Madonna Quanta gente Brutta gente Ok Lo so A chi Dove andare a menare Quello che ha poca vita Inchia Schiva Madonna Quanto Eh Questo sta Rischiando eh Peccato Peccato Ne aspettavo di più Ah ok Fuori uno Fuori uno Beh Beh almeno Si consenso di lui Ah c'è il cobra Non l'avevo visto Arma del nemico Ahia Meno male che ha una buona corazza Lui Eh però Ma se io faccio una cosa del genere così Credo che faccia un po' male a tutti Quasi no Quasi Però Però già è qualcosa Ed è uno Ma dovrei Per favore Anzi sei Dove Per favore Cura solo a lui Eh T'ammazzo Ma dai Perché più Ne faccio fuori Meglio è però È ovvio Oddio La fuga è proprio lì Non l'avevo visto Ovvio Poverina Ma dai No no Ho fallito Ho fallito Ho fallito la missione Raga È scappato solo uno È fallito la missione Che palle Guarda Giuro Che nervi Basta che scappa uno Raga Non c'è niente da fare Sfoca la tua frustrazione Purtroppo raga Basta che uno Oh È Mi scappa E guai Purtroppo È un dato di fatto Raga È già Riberse A crimosso Che cavolo Però Scusciatemi Aia Là però Devo mettermi in difesa Però Eh Non fa niente Ragazzo Ah È un Che cacchio Sei Un incantatore Minchia Quanti danni Però Questa È stata brutta È andata malissimo E va bene Pure Qualcos'altro È munizioni finite Però Con il controcoglione Però Sì Stabilizza Col cavolo No Comunque La partita è persa Proprio Mi dispiace Dirlo No Perché Tra avvelenati Non avvelenati È troppo casino Raga L'ho persa proprio Male Male Perché questi scappano E niente Raga È persa È persa Perché Ad essere Trasformato In bersaglio Beh Giustamente Facciamo così Due Un'altra volta È un'altra volta È un'altra volta E... È un'altra volta Questo è stato poi Un fallimento Eh Mostra proprio fallita Dovevo scappare da qui E attaccare Ce l'ho riprovata Poter far Potrei riavviare la missione Però È difficile comunque Dar così bene all'inizio Dopo si sono Accum... No È troppo Troppi Raga Troppi numeri Devo gestire molto meglio La squadra deve essere Da demolizione Qua No Mi dispiace Raga Devo O... Salvataggio precedente No Perché mi fa ripartire A metà missione Ma qua è un casino Troppo difficile Niente Perché ancora No La squadra è ancora decente Per affrontarla Non c'è niente da fare Vabbè Allora ritorneremo Alla missione precedente Cioè Faremo un'altra L'altra missione Questa è L'anarchia È una delle missioni Più difficili da fare È la più difficile Potrei riprovarla dopo Ma è un casino stesso Avete visto Qua è tosta proprio No Devo equipaggiarla molto meglio Per togliere Di mezzo Le missioni Anarchia Troppo Troppo difficili Allora Rifaremo La missione Quell'altra secondaria Per forza Quindi attento Passo e chiudo Per forza Per forza Per forza